C'è una realtà produttiva locale che è in controtendenza rispetto a quello che accade spesso nel nostro territorio e che è disovente. Ci siamo trovati a raccontare nei nostri approfondimenti, cresce ed intende consolidare con nuovi investimenti e nuove assunzioni che confermano un trend positivo e che verranno effettuate nei prossimi mesi. Il focus del nostro approfondimento oggi è su HP Composite, un'azienda sita nella zona industriale di Campolungo, ben trovati da Verusca Cestarelli. Sembra davvero incredibile dunque come, malgrado la crisi incomba inesorabilmente su tutto il nostro territorio, ci sia invece, proprio come dicevamo in controtendenza, una realtà operante in un mercato sicuramente di nicchia ma che imbarba tutte le tendenze, decide invece di investire ulteriormente ad Ascoli per proseguire la sua crescita e consolidare la propria realtà industriale. Abbiamo chiesto i motivi di questa scelta al direttore generale dello stabilimento HP Composite di Ascoli, l'ingegnere Abramo Levato. Sì, siamo molto contenti di questa collaborazione con il territorio, con le istituzioni. Non a caso un imprenditore francese, che è un caso straordinario, si sa che i francesi sono anche abbastanza campanilisti, ha deciso di investire ad Ascoli e grazie anche ai risultati che stiamo portando avanti si è deciso, piuttosto che investire in qualche altra parte del mondo dove comunque ci sono degli studi e delle attività per poterlo fare, ha deciso di consolidare e quindi comincerà a puntare come centro di eccellenza ad Ascoli per poter poi andare a distribuire in tutto il resto del mondo, d'Europa. Un'azienda che rappresenta un'eccellenza produttiva in un territorio che sente ancora fortemente la crisi, qual è il segreto di questo successo? Sicuramente la natura del mercato in cui operiamo è un mercato di nicchia, quindi i materiali compositi, il carbonio ormai trovano applicazione in qualcosa di medio-alto. Il medio-alto non morirà mai, le macchine da corsa ci sono, ce ne saranno sempre, macchine di un certo altro livello elevato ce ne saranno e continueranno ad esserci e l'impiego dei compositi sarà sempre molto più spinto perché composito o meglio carbonio significa leggero, energie alternative, le macchine elettriche migliorano autonomia, migliorano le velocità, migliorano tutto e quindi sicuramente si andrà in quella direzione. I numeri di HP parlano chiaro, più di un milione e mezzo di investimenti eseguiti negli ultimi sei mesi raddoppiando la capacità produttiva con l'intenzione specifica di distinguere in due unità differenti le attività dell'azienda. In HP oggi lavorano più di 260 persone, delle quali 165 già dipendenti a tempo indeterminato, mentre le restanti società con lavoro interinale. Record di assunzioni per HP lo scorso anno con 75 risorse, sfruttando così al massimo le opportunità del Job Act, diventando tra l'altro HP con ogni probabilità l'azienda marchigiana che ha assunto di più nel 2015. Molto spesso la riforma del lavoro, il Job Act, di cui abbiamo già parlato nei nostri approfondimenti, è stata attaccata. Invece l'ingegner Levato ai nostri microfoni ha raccontato proprio che attraverso la riforma del lavoro è stato più semplice per HP poter consolidare le proprie risorse umane. Sicuramente ha aiutato tanto a decidere di stabilizzare 75 persone. Abbiamo sempre lavorato con una lavorazione in somministrazione. Il fatto di avere degli incentivi a conti fatti è stato un aiuto importante. Non nego che quest'anno, essendo cambiate le regole, probabilmente non avremo gli stessi numeri dell'anno scorso. Però questo ci ha permesso di raggiungere una popolazione lavorativa molto molto importante. Ecodime Italia, azienda del gruppo, si occupa in particolare della formazione. Quanto è importante quest'aspetto proprio dell'education, della formazione per personale altamente qualificato? Penso sia fondamentale perché comunque, vi ripeto, per segreto, chiamiamolo così, industriale, non ho potuto citare brand e clienti che sono venuti da noi per fare delle sessioni di full immersion per imparare ad ingegneri che poi hanno avuto dei risultati impressionanti in gara. Ripeto, mi spiace non poter fare nomi, però è fondamentale dire che da fuori Italia sono venuti da noi per poter capire i trucchi del mestiere quando comunque c'è un mondo intero che fa questa lavorazione ma hanno deciso di venire ad Ascoli. Quindi è una cosa molto molto bella e lo diciamo con orgoglio. Dalla Coppa Teodori domenica la nostra corsa storica, dobbiamo dire, giunge alla 55esima edizione. Radio Ascoli è il radio ufficiale di questa manifestazione. Quanto è importante che anche attraverso questa partecipazione si consolidi il rapporto col territorio? Noi abbiamo raccolto il testimone e la sfida, se vogliamo chiamarla così, dal presidente Cuccioloni che chiaramente avendo saputo ormai che eravamo radicati e quello che facevamo, lui questo fa e quindi ha detto perché una Coppa così storica, importante, Coppa Paolino Teodori uguale Ascoli Piceno. Noi siamo ad Ascoli Piceno, partecipare significa Ascoli piace all'imprenditore e ci crede ulteriormente perché comunque per noi rappresenta un investimento. partecipare, sottolineo, partecipare, non andiamo domenica per vincere ma andiamo per divertirci e per poter far sentire forte la nostra presenza sul territorio. HP parteciperà dunque alla Coppa Paolino Teodori che Radio Ascoli trasmetterà in diretta domenica dalle ore 9.30 con due auto, due vetture, la Alige che sarà guidata dalla belga Emanuele Gonè ma si presenterà la partenza anche con una Alige Biposto categoria LMP3 come apripista, vettura numero zero che verrà guidata dal pilota leader dell'Ibiza Cup, il giovane Emiliano Gabriele Torelli. Segno dunque della volontà di HP di consolidare questo sodalizio con il territorio Piceno e proprio della partecipazione di HP alla Coppa Teodori abbiamo parlato con Gianni Cuccioloni presidente del gruppo sportivo AC di Ascoli. Questa azienda innanzitutto ci onorerà della presenza della Alige, il modello JSP3 e questa sarà la vettura che darà la bandiera rossa alla Coppa Teodori sia il sabato che la domenica quindi precederà ogni salita esponendo il drappo rosso. Per l'occasione il patron ha vinto la 12 ore di Sebring, ha vinto la 4 ore di Daitona e ha partecipato alla Road to Le Mans della scorsa settimana. Per l'occasione il patron proprio della vettura, della Oak Racing che l'ha portata qui ad Ascoli ha fatto dotare la vettura del secondo seggiolino che normalmente non è previsto. Quindi ho pensato che una delle quattro salite a fianco del driver che sarà Gabriele Tonelli pilota nazionale affermato, vorrei che ci fosse Carlo Giuliani e salisse su per chiudere il percorso e in questo modo omaggiarlo un po' dello splendido lavoro che ha fatto a livello video. Un esempio virtuoso quello di HP Composite, dunque una vera e propria boccata d'ossigeno per un territorio ancora in sofferenza, un'azienda che crede nel territorio, nelle risorse umane e picene e che investe anche partecipando e sostenendo eventi come la Coppa Teodori che hanno reso e rendono ancora il nostro territorio protagonista a livello nazionale ed internazionale. Per Realtà Locali di oggi è tutto, da Verusca Cestarelli, grazie per l'ascolto.